Guglielmo Incerti, buongiorno e benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per farci incontrare un festival a noi molto caro perché il Posto delle Parole guarda le parole scritte, certamente non guardando solamente al passato scritte con la penna stilografica o con la matita o con il pennarello o con la penna biro ma guardiamo questo festival con molta curiosità perché tra tanti festival è giusto sottolineare la valenza importante e poi anche la progettualità e il senso del condividere cultura come questo Manu Scrivere. Guglielmo Incerti è presidente dell'AGI, l'AGI è l'Associazione Grafologi Italiani, partiamo proprio da lì. Che cosa fa l'AGI, Guglielmo Incerti? Allora l'AGI è la più grande associazione italiana che raccoglie al suo interno i grafologi professionisti. L'AGI cosa fa? Intanto fa formazione a delle scuole proprio per creare nuovi professionisti grafologi e ai suoi soci fa formazione e divulgazione di questa disciplina che in Italia ancora oggi non è conosciutissima, che però invece meriterebbe un posto migliore diciamo nell'ambito italiano perché è una disciplina che può lavorare in diversi ambiti. La grafologia infatti si divide nell'ambito peritale dove è molto utilizzata nei tribunali, avvocati o notai, abbiamo tutta una parte sull'età evolutiva, abbiamo il professionale, in Italia si usa poco per la selezione del personale, ma in altri paesi come in Francia per esempio è molto più utilizzato in appoggio, in supporto a quelli che sono normalmente i test psicologici che vengono erogati. E secondo lei perché in Italia, l'Italia paese della grafologia, anche perché noi abbiamo questa disattenzione per esempio nei colloqui di lavoro non fare attenzione al senso dello scrivere, al gesto della scrittura? Non lo so, sinceramente forse perché si dà più credito ai test psicologici che hanno sicuramente la loro validità, ma infatti la grafologia non vuole assolutamente sostituirsi alla psicologia, ma può essere sicuramente un supporto d'aiuto, molti psicologi sono anche grafologi non a caso e quindi un'analisi della grafia del candidato può portare e far emergere degli aspetti che possono essere utili al selezionatore se lo deve ricollocare all'interno di un'azienda o se serve proprio per una nuova figura professionale. Guglielmo Incerti, andiamo qui nel posto delle parole e diciamo sovente che amiamo inciampare nelle parole, perché quando ti inciampi ti rendi conto di quel qualcosa. La parola grafologia spesse volte crea una confusione per chi non conosce il significato stesso della parola con la parola calligrafia. Ora, sono due cose che in un certo modo si attraversano, ma sono distinte. Sì, sì, molto, molto distinte. La calligrafia è la forma, mi permetto il termine, d'arte della scrittura. La grafologia invece interpreta il segno grafico che lo scrivente mette sul foglio e quindi è una cosa completamente diversa. Infatti comunque i due mondi possono benissimo convivere. La grafologia entra proprio solo, esclusivamente nel gesto grafico, tanto più che per il grafolgo non esiste una brutta calligrafia, ma esiste una grafia da analizzare, un gesto grafico che può essere bello o meno bello, ma comunque un gesto grafico che è proprio dello scrivente. Teniamo conto che ognuno di noi ha il suo gesto grafico nella propria scrittura, che è unico e ripetibile, è come un'impronta digitale che ci distingue da tutti gli altri esseri umani. Mi è stato detto una volta, a proposito di scrittura, si scherzava sul modo di scrivere, è stato detto che per i grafologi c'è un detto, e me lo confermi lei, Guglielmo Incerti, chi ha carattere non ha carattere. In sostanza, chi scrive bene non ha un bel carattere. Sì, si può dire così, le posso fare un esempio che tra noi grafologi viene ripetuto spesso, no? Parliamo della grafia dei medici, per esempio. Allora, tra i grafologi c'è questo detto di fida di quel medico che scrive benissimo e dove si capisce tutto quello che scrive, no? Perché magari denota meno creatività, meno intuito e di solito si dice che chi ha una grafia così chiara è di solito quello che ti va a fare tantissimi esami perché non riesci a capire che cosa puoi avere. E questo è un po' quello che diceva lei, no? Cioè questo detto, questi aneddoti tra grafologi, poi chiaro ci sono le eccezioni, no? Ovviamente che confermano la regola. Però sì, cioè le caratteristiche di una grafia sono tante. Tenga conto che la scuola italiana ha al suo interno un'interpretazione di più di 100 segni all'interno di una grafia. È chiaro che non è che noi nella nostra grafia abbiamo tutti i 100 segni, però ne abbiamo diversi che vanno tutti analizzati e ogni segno ha sia un'accezione negativa che una positiva, dipende poi dal contesto della scrittura. E il lavoro del grafologo è proprio questo. Lei è educatore del gesto grafico, bellissima definizione. Ecco, e in quanto educatore del gesto grafico, Guglielmo Incerti, ha a che fare sicuramente anche col mondo della scuola. Quindi lì la grafologia cade in disgrazia, mi permetta. No, diciamo che oggi c'è un problema, no? Ecco perché Agi è in prima linea per difendere la scrittura, che poi per i grafologi è il piano e il piano di lavoro, perché nella scuola si pone molta meno attenzione allo scrivere e all'insegnare lo scrivere. L'educatore del gesto grafico ha il compito là dove si presentano delle grafie, soprattutto nei ragazzini o nei bambini, che sono confuse, non ordinate, ma che non rientrano comunque in un DSA e quindi in un disagio disgrafico, diciamo. L'educatore del gesto grafico può riportare il bambino e il ragazzo a una grafia più consona alla sua personalità. Oggi cosa succede? Che molti bambini arrivano nella prima classe di scuola primaria che sanno già scrivere. o ahimè insegnanti, grazie a Dio non tutte, perché ne abbiamo molte che adesso stanno un po' rivedendo il discorso della scrittura, che magari scrivono alla lavagna e dicono a bambino copia, senza poi preoccuparsi se il bambino compie il gesto grafico corretto per costruire la lettera. Ma lei si ricorda, Guglielmo Incerti, quando a scuola lei scriveva, ripeteva e ripeteva all'infinito la lettera A e poi tutte le altre? Ma non solo, mi ricordo che noi partivamo prima dai pregrafismi, quindi le aste. Le barrette, le aste, era la prima cosa che si faceva. Erano tutti quei segni che ci permettevano poi di poter organizzare e costruire la lettera. Una volta c'era la calligrafia, c'era proprio la lezione di calligrafia. Oggi questo purtroppo si è perso ed è un vero peccato perché poi ci porta ad avere sempre più alte percentuali di bambini che non riescono più a scrivere. E per capire come scrivere, certo, il gesto grafico disordinato dice molto sul carattere, sulla personalità ed è utile, è necessario avere chi si occupa di educazione del gesto grafico e vale anche la presenza di un festival per entrare in sintonia con la straordinaria arma della curiosità per questo festival Manuscribere che si apre sabato, sabato 30 settembre a Bologna e questo festival sicuramente si valuterà, ci si confronterà a 360 gradi sulla coniugazione del verbo scrivere. E che cosa vi aspettate, Guglielmo Incerti? Ci aspettiamo di sensibilizzare di più l'uomo della strada, diciamo, rispetto a questo aspetto. Noi stiamo raccogliendo veramente molte adesioni e devo dire che già con la prima edizione dell'anno scorso il festival ha avuto un buon successo. Quest'anno abbiamo la fortuna di aver avuto anche l'interessamento delle istituzioni, che per noi sono fondamentali perché si possa cominciare a fare un discorso proprio in quegli ambiti dove è più importante che la scrittura venga salvaguardata e quindi parliamo della scuola. Quest'anno abbiamo tra i nostri relatori o comunque l'apertura dei lavori l'onorevole Monica Ciaburo che è prima firma per istituire la giornata italiana della scrittura a mano, istituendo una commissione in cui Agi è all'interno. In più stiamo lavorando per che la scrittura a mano diventi patrimonio immateriale dell'umanità. È un percorso lungo, ci stiamo lavorando da anni, ma sono convinto che Agi riuscirà a ottenere anche questo risultato insieme all'Istituto Grafologico Moretti di Urbino. In più abbiamo l'interessamento dell'onorevole Mollicone che anche lui ha chiesto di poter essere dei nostri e anche lui aprirà i lavori insieme all'onorevole Ciaburro e lui è il presidente della commissione 7, quindi parliamo di scuola, cultura, università e ricerca. Qualcosa si sta muovendo verso la scrittura a mano e quindi noi siamo ben felici di essere promotori che da sempre vogliono divulgare e difendere questo patrimonio, ripeto, patrimonio unico per ognuno di noi. Questo patrimonio unico che poco per volta sta, per così dire, franando. Ora non voglio dire che tutte le dotazioni tecnologiche siano da buttare, tutt'altro, però l'attenzione al gesto manuale, a quando si deve prendere un appunto, la lista della spesa, ecco vado veramente, Guglielmo Incerti mi perdoni, nella quotidianità, quando per esempio si deve fare la lista della spesa, prendere un pezzo di carta e scrivere a mano, già questo è un esercizio educativo come gesto grafico, che ne pensa? Certamente, tanto più che io vorrei invitare tutti gli ascoltatori a fare questa prova. Tutto quello che viene scritto a mano si ricorda molto di più rispetto a quello che viene scritto digitalizzato a tastiera. È provato scientificamente, proprio sotto l'aspetto neurologico, che l'attività, la scrittura a mano, muove parecchie aree del cervello, ne attiva parecchie, mentre la scrittura su tastiera ne attiva pochissime e anche questo è un problema sull'evoluzione. Oggi abbiamo bambini che evolvono molto più unitamente, che hanno dei deficit anche cognitivi se continuano a usare solo apparecchiature o device. Il problema è che bisogna trovare il giusto equilibrio, la tecnologia non va demonizzata, ci mancherebbe altro, però bisogna trovare, secondo me, il giusto equilibrio. Certo, ovviamente io pensavo fino a poco fa che ho una reminiscenza molto scolastica, che se devo ricordare qualcosa devo scrivere a mano, come anche in questo istante, durante le nostre conversazioni. I miei appunti li devo prendere quasi come se fossi a scuola. Forse avevo questa possibilità a scuola di realizzarlo in maniera migliore, ma mi rimane ancora adesso. Mentre lei mi dice che questo è un aspetto molto importante e mi fa molto molto piacere, perché lo scrivere a mano non è un esercizio così puramente estetico per dire io sono chic, mi piacciono le cose d'antan. No, vuol dire esattamente vivere lo spirito del tempo e anche del tempo contemporaneo. Che ne pensa Guglielmo Incerti? Assolutamente sì e poi soprattutto un modo di comunicare che abbiamo. Non dimentichiamocelo proprio per quello che dicevo prima e mi ripeto che il gesto grafico è nostro, il gesto grafico è unico, è nostro e quindi è un nostro modo anche per comunicare, per comunicare nella società, per comunicare al mondo. Cosa che comunque una tastiera non ti può dare se non, voglio dire, vie ufficiali, ma non dà nulla di nostro. Ricordo i nostri ascoltatori il sito di questo festival manuscribere.it e il festival che si tiene sabato 30 e domenica 1 ottobre a Bologna. Guglielmo Incerti è stato nostro ospite per raccontarci questa straordinaria esperienza, ma parliamo un po' di lei chiudendo questa conversazione. Lei con che cosa scrive, Guglielmo Incerti? Io scrivo principalmente con la stilografica. E qui si apre un mondo? Con quale tipo? Con stilografiche semplici, la cosa importante è il pennino, la stilografica soprattutto. Ma che tipo di pennino? Quello molto fine o quello largo? No, quello largo. Io utilizzo quello un po' più largo, insomma, diciamo quello medio, se dobbiamo dare una definizione più corretta. Però la cosa importante è che questo strumento scrittorio ti obbliga ad avere una postura, un'impugnatura corretta per lo scrivere, perché l'educazione al gesto grafico ti porta anche a queste correzioni. Oggi abbiamo bambini che scrivono con la gamba sotto il sedere, piuttosto che, voglio dire, tutti chinati da una parte. Io, se fosse per me, farei adottare a tutte le scuole primarie la stilografica. Eh, sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello. Quindi, a proposito, visto che lei sta lavorando anche attraverso questo festival per l'istituzione della giornata della scrittura, per il riconoscimento dell'UNESCO, e credo che sia anche una cosa importante. Torno a dire, ma non per una questione di nostalgia e del passato, ma semplicemente per un fatto... Poi i bambini sono straordinariamente curiosi, quindi l'elemento della stilografica per loro è del tutto nuovo, quindi potrebbe essere veramente molto, molto interessante. Ma prima di salutarci, Guglielmo Incerti, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Guardi, in questi giorni, non a caso, sto rileggendo in nome di Umberto Eco, dove anche lì si parla di manoscritti, casualmente. Eh, sì. Però era una cosa che avevo voglia di riprendere e che sto rileggendo molto volentieri. E a proposito di scrittura manuale, Umberto Eco si è battuto molto in tutta quanta la sua vita e conserviamo ancora nella memoria le sue parole riferite per l'appunto alla scrittura manuale. Intanto grazie, grazie davvero Guglielmo Incerti e buon festival. Grazie a voi, grazie a voi e buon festival a tutti. Grazie, grazie mille.